buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo angelico di oggi e intanto come state stamattina eccole le nostre tre carte ma come state come vi sentite allora questa vuole uscire ok ma queste due no abbiamo due coppie di carte oggi due così e due così facciamo così facciamo due sono uscite scoperte e due sono uscite coperte se volete una lettura privata con me ragazzi lo sapete cosa dovete fare o mandate un email o andate sul sito internet e se volete diventare miei studenti lo sapete cosa dovete fare dovete mandare un whatsapp al 338 8191267 senza nessun impegno per chiedere informazioni cominciamo studenti mettete in pausa e date la vostra interpretazione io vedo subito che con questo re di coppe con questo imperatore e oggi è obbligatoriamente importante oppure spudoratamente naturale tenere le nostre emozioni sotto controllo perfettamente sotto controllo come se dovessimo fare maggiore attenzione a ciò che accade come se il nostro essere re di coppe ha bisogno comunque di un'ulteriore supervisione come dire oggi entrerà in gioco la parte di me del poliziotto la parte di me dello sceriffo quella che mi controlla mi guarda guarda quello che faccio quello che dico quello che fanno e dicono gli altri e gestisce tutto magari in silenzio dall'alto senza far capire agli altri che c'è appunto questa supervisione quindi è come quando noi stiamo in mezzo alla gente ma siamo iper controllati su quello che facciamo e su quello che diciamo perché magari siamo sappiamo di essere con delle persone che potrebbero comunque essere molto interessate a quello che noi diciamo e magari potrebbero usare quello che diciamo o contro di noi o a nostro favore se noi non ci sentiamo 100 per cento sicuri e al 100 per cento rilassati ecco che l'imperatore che in noi ci da ci tiene d'occhio ci guarda e ci impedisce magari di straparlare o di strafare ma semplicemente dà il suo appoggio e la sua guida però siccome siamo con un re di coppe e questo re di coppe significa che o siamo noi il re di coppe di oggi e quindi noi vogliamo bene a tutti oggi ma sì vogliamo bene a tutti ma non come un hippie ma non come un una roba da peace and love no perché quello è una cosa sregolata sarebbe un re di coppe con un matto ecco un re di coppe con un matto sarebbe una persona che nonostante la sua capacità di essere matura emotivamente però si comporta da folle capita è come quando come quando usciamo con le amiche facciamo le sceme quindi noi vogliamo molto bene alle nostre amiche noi vogliamo molto bene al resto del mondo noi siamo persone serie e mature ma fare gli scemi ogni tanto ci sta il matto se abbiamo l'imperatore invece no noi siamo molto maturi noi vogliamo bene a tutti noi sappiamo comportarci bene con tutti ma ci controlliamo quindi ecco che un'energia un po di come dire campana un po una campana per vedere che accade se in alternativa questo re di coppe è qualcuno che viene da noi qualcuno che ci offre la sua coppa noi siamo l'imperatore tutto sotto controllo sempre lì siamo oggi quello che si è quello che vince da queste carte è che comunque le emozioni per quanto siano pulite e tranquille e serene vanno tenute sotto controllo ma adesso andiamo a scoprire le due cartine che invece ci parleranno di ciò che non si vede perché perché voglio fare un altro un'altra breve parentesi per i miei studenti o per chi studia da autodidatta queste due carte erano cadute coperte queste scoperte ciò significa che questo è ciò che è evidente e questo è ciò che non si vede ma c'è ecco fine della lezione ciò che non si vede ma c'è è un asso di denaro rovesciato con un 10 di spade urca urca e quindi quello che noi non vediamo bene ma che in fondo sappiamo è che qualunque nuovo inizio ci venga proposto oggi non ha un futuro non oggi perlomeno non subito risveglia la sacerdotessa che è in te lascia che gli arcani ti svelino i loro segreti e impara a leggere i tarocchi con il metodo maya www.vocidagliangeli.com ed è proprio questo forse lo scopo del tenere sotto controllo con l'imperatore la situazione il se qualcuno dovesse venire oggi a proporci qualcosa noi non noi non diciamo di sì noi assolutamente non diciamo di sì noi diciamo proprio di no noi diciamo che qualunque sia questa idea non è una buona idea o non è più una buona idea o magari è troppo tardi ma noi diciamo di no e infatti anche voglio dire anche un'altra cosa che a livello energetico questo tentativo di asso di denari non è un non è un tentativo fatto bene proprio perché è rovesciato quindi è come se chi offre il denaro sa già in partenza che non andrà a buon fine sa già in partenza che non funzionerà e quindi a livello energetico non sta trasmettendo un qualcosa di efficace voi dovete sempre considerare ragazzi ma al di là dei corsi di magia d'amore telepsichia psicologia cioè quello che si insegna quello che insegno io quello che insegnano altri quando parliamo di energia di lavorare con l'energia è che se noi stessi non siamo convinti di ciò che stiamo facendo non funziona è già difficile ed è già impegnativo no non difficile è già impegnativo dover fare qualcosa che pesa sulle nostre spalle che ci riguarda che che implica uno sforzo è già pesante è già impegnativo ma se in più noi iniziamo un qualcosa senza essere davvero convinti di volerla o poterla fare non va non va energeticamente non state lavorando bene e per questo che quando andiamo di telepsichia io dico sempre ragazzi ma inutile che fate telepsichia se non siete davvero innamorati o convinti di volere quella persona perché se non avete il giusto stimolo non c'è la giusta energia e non funziona quindi la stessa cosa vale in tutto però se voi volete un lavoro e dovete fare un colloquio di lavoro ma non siete sicuri che quello sia il lavoro giusto per voi o carmicamente quel lavoro è stato predestinato a voi allora lo avrete qualunque cosa accada anche se fate scena muta durante il colloquio o se non è carmicamente il posto giusto per voi voi il lavoro non lo avrete perché energeticamente non state mettendo lo sprint giusto l'energia giusta e quindi quello che volete non arriva ora 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 io prendo altre due cartine perché voglio vedere se ci danno altri indizi ecco ne sono cadute 10.000 no ne voglio due quindi le prendiamo così una e due eh sì ecco allora chiarito tutto chiarito tutto quello di cui voi avete paura è che chi arrivi chi arriverà da voi con questo asso di denari non è onesto ed è questo il punto perché avete ragione non è onesto questa persona questa proposta questo qualcosa che vi arriverà oggi che potrebbe essere un partner potrebbe essere un amante potrebbe essere il tizio che vi cerca ogni tanto quando ne ha voglia e poi vi molla potrebbe essere quello sposato con cui non potete stare potrebbe essere un amico un amica un paio un collega un qualunque una qualunque cosa ragazzi voi di questa o se viene da voi voi non vi fidate ed ecco perché questo tentativo è molto misero e lascia il tempo che trova e voi lo mandate al diavolo dando non un 10 di picche ma un 10 di spade o in ogni caso se siete voi che state andando verso qualcosa nemmeno voi ci credete questo significa essere bugiardi significa mentire a voi stessi ne ho proprio parlato in questi giorni nel nuovissimo corso di guarigione karmica ed energetica perché ho fatto la lezione apposta se voi non siete onesti con voi stessi con le vostre reali intenzioni paure emozioni e desideri voi energeticamente risultate bugiardi e quindi l'universo non vi prende in considerazione non vi realizza le cose se voi pensate che potete andare da questa persona per fare questa proposta voi vi state prendendo in giro da soli perché lo sapete benissimo che questa non è una proposta fattibile e che probabilmente non verrà accettata quindi siete bugiardi con voi stessi se invece è qualcun altro che viene verso di voi il bugiardo probabilmente sarà per voi l'altro e non solo ma per la serie come dice questa carta tutte a me capitano sì evidentemente sì perché punto primo perché ci sono delle persone che hanno proprio un'attrazione magnetica per i casi umani e questo dipende da tantissime cose di cui magari parliamo in altra sede per questo ci sono i videocorsi e ci sono le sessioni private i percorsi di coaching poi all'irà di chi attira i casi umani per tutti questi vari motivi ci sono a volte anche dei periodi in cui sono dei periodi magari particolarmente intensi in cui tendiamo a abbiamo bisogno di sciogliere molto karma molto karma accumulato da noi dai nostri antenati dalle nostre vite passate da questa vita ecco tanta roba ed ecco che questo potrebbe essere proprio uno di quei periodi alla fine comunque con la carta dell'imperatore noi abbiamo tutto sotto controllo quindi non abbiamo davvero nulla di cui preoccuparci cioè qualunque cosa arriverà da noi e non arriverà bene noi non abbiamo davvero nulla di cui preoccuparci perché questo re di coppe se siamo noi siamo noi che siamo talmente tanto pronti e preparati a tutto che sappiamo come comportarci quando dire sì e quando dire no se invece questo non siamo noi ma purtroppo questo è qualcuno che arriva un po' male io non credo che arrivi con cattive intenzioni vi devo dire la verità non arriva con cattive intenzioni non è un bugiardo o una bugiarda perché viene a dirvi bugie a prendervi in giro è un bugiardo o una bugiarda nel senso che prende in giro se stesso o se stessa così come voi rischiate di prendere in giro voi stessi se oggi ve ne andate in giro a fare proposte non è la giornata per fare proposte state fermi semplicemente non c'è l'energia giusta vediamo invece gli angeli che cosa hanno da dirci e se hanno qualcosa da aggiungere magari qualche suggerimento per gestire al meglio queste energie oggi o nei giorni intorno ad oggi e io ragazzi vi chiedo di commentare chi è questa persona che mente siete voi che rischiate di mentire a voi stessi o è qualcuno che sta palesemente mentendo a voi due carte le teniamo e abbiamo bello il mondo con l'arcangelo michele che viene sempre quando abbiamo bisogno di lui e il cavaliere di fuoco con qualcosa mannaggia con qualcosa allora intanto dobbiamo parliamo di questo cavaliere di fuoco che è proprio ciò che richiederà la nostra attenzione immediata in modo proprio immediato rapido ci sarà un qualcosa oggi o in questi giorni che richiederà questa attenzione rapida che ci metterà in una posizione in cui dobbiamo far presto dobbiamo analizzare attentamente questa situazione però nonostante dobbiamo far presto quindi non possiamo correre è vero che c'è tanto imballo è vero che probabilmente ci sono bugie e magari è anche un periodo in cui davvero capitano tutte a me o tutte a te o a voi però comunque questo qualcosa che sta per avvicinarsi e per arrivare è rovesciato non possiamo far finta che non lo sia non importa se viene da noi o da qualcun altro noi dobbiamo avere il tempo per pensare analizzare ciò che sta accadendo nonostante bisogna far presto nonostante dobbiamo reagire rapidamente il mondo, la carta del mondo ci dice che abbiamo fatto un ottimo lavoro comunque qualunque sarà la nostra scelta su come reagire a queste bugie su come reagire a questa situazione che si presenterà oggi questo incontro, questa proposta questo qualcuno che vuole parlare con noi e vuole proporci, offrirci qualcosa la nostra risposta sarà quella giusta faremo un buon lavoro anzi in realtà siamo già proprio sulla scia della fine siamo verso la fine di un ciclo karmico che ha comunque visto, ci ha visto i protagonisti in questo periodo ma è davvero arrivato alla fine e adesso manca davvero poco per iniziare nuovi cicli nuove esperienze e avventure che ci porteranno a gioia, soddisfazione e soprattutto un consiglio che ci stanno dando queste carte è di usare la gratitudine perché questa è la vera emozione che ci permette di andare bene nel sentiero dell'illuminazione e quando parliamo di illuminazione in termini di relazioni di coppia o relazioni umane o situazioni appunto con gli altri con il resto del mondo l'illuminazione significa semplicemente trovare la pace interiore per poter stare in pace con gli altri ecco ragazzi quindi io vi invito a mandare un'email per avere una sessione privata o andare sul sito internet e in alternativa per avere informazioni sui videocorsi inviate un messaggio whatsapp al 338 8191267 senza nessun impegno io vi metto in contatto con Elisa che vi spiegherà che cosa potete fare per il resto ci vediamo a domani